Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte. Innovazione e leadership hanno fatto da filo conduttore dei convegni e delle cerimonie di premiazione del 2019. Questo galà ha rappresentato la sintesi delle categorie premiate durante l'anno. Durante la cerimonia condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell'attore e showman Germano Lanzoni, Le Fonti ha omaggiato una delle categorie più amate seguite, lo sport. Tre premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte, il campione dell'Inter è Esteban Cambiasso, che ha trionfato nella categoria New York Talent Calcium TV. Abbiamo l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership e lavorazione acciaio. E il vinto è Still Tecchei, vincitori! Eccoli che arrivano e leggiamo subito la motivazione. Per essere un'eccellenza nel settore della lavorazione dell'acciaio inox, per essere una realtà solida. Sì, sono acciaio, sono soliti loro. Una storia di oltre 40 anni per operare sul mercato nazionale ed estero con sistemi innovativi e in linea con i principi della ecosostenibilità, grazie al continuo aggiornamento e all'investimento sulla ricerca e sviluppo. Complimenti! Quindi, non è casuale quel papione? Non è acciaio ma un po' lo rifiuti, ma è signo acciaio. Grazie! Ecco le foto per ricordare il momento. Bravissimi! Complimenti! Grazie! Grazie! Un piacere! Complimenti per il vostro lavoro! Alfonso Cialdella, presidente del consiglio di amministrazione di Stiltec, che ottiene quest'anno il riconoscimento del gruppo Le Fonti come eccellenza dell'anno Innovazione Leadership e Lavorazione Acciaio. La motivazione per cui vi è stato attribuito questo riconoscimento per essere un'eccellenza nel settore della lavorazione dell'acciaio inox, per essere una realtà solida con una storia di oltre 40 anni, per operare sul mercato nazionale ed estero con sistemi innovativi e in linea con i principi della ecosostenibilità, grazie al continuo aggiornamento e all'investimento in ricerca e sviluppo. La società appunto viene premiata con questa motivazione. Le chiedo intanto un commento. Mantenere anche un primato, se vogliamo, di questo tipo, un riconoscimento di questo tipo, ottenerlo in un momento in cui in questo settore c'è grande discussione per tante motivazioni. Dottor Cialdella, possiamo immaginare che possa essere anche una grande soddisfazione. Intanto grazie a tutti voi. Sono lusingato, veramente onorato di questo premio che ovviamente ci ricompensa di tutti gli sforzi e i sacrifici che ogni giorno la Stiltec compie. Chiaro, io sono qui a ritirare il premio, ma è un premio che effettivamente lo ritiro perché ci sono anche i miei colleghi che se lo meritano. Assolutamente condiviso con tutta l'azienda quindi. Collaboratori, dipendenti e quant'altro. Sono lusingato, onorato perché ci ricompensa anche degli sforzi che noi mettiamo ogni giorno con la nostra clientela. Noi siamo sempre più partner dei nostri clienti. Sicuramente non siamo soltanto fornitori, noi dobbiamo sempre affiancare il nostro cliente, ad operare tutte le funzioni e tutte le forze al fine di raggiungere le loro esigenze. Quando parliamo di acciaio in questo momento a noi vengono in mente fondamentalmente due grandi temi. Da una parte uno globale, la guerra tra Stati Uniti e Cina, la guerra, la questione commerciale aperta tra Stati Uniti e Cina che riguarda molto fortemente anche questo settore e poi una questione di carattere strettamente nazionale che è una questione che riguarda anche il suo territorio perché la vostra azienda è a Corato. Come la state vivendo? Parliamo di ILVA naturalmente. Sì certo, purtroppo. Parliamo di ex ILVA e ci lascia parecchio incerti. Parecchio incerti perché effettivamente il prezzo della materia prima al momento, chiaramente con l'ILVA, con la ex ILVA, con le questioni ex ILVA non ci lasciano, non ci danno serenità, non ci danno certezza. I posti di lavoro che ovviamente, notizia di qualche ora fa, ci sono quasi 5.000 esuberi che in qualche modo devono essere ricollocati in Puglia. Non è un bene per la Puglia, non è neanche un bene per la Nazione Italia perché è chiaro che sono posti di lavoro che verranno a mancare. Certo, quindi per voi c'è tutto l'interesse affinché questa vicenda si possa risolvere al più presto possibile e che ci sia chiarezza in un modo o in un altro. Invece per quello che riguarda la questione internazionale, che ricadute ci sono di questa questione commerciale aperta fra le due più grandi potenze al mondo? Che ricadute possono esserci in una piccola azienda che opera nel territorio italiano? Per quanto riguarda la mia attività, reputo che la maggior criticità sia proprio quello del costo della materia prima, che effettivamente non avendo una base solida il prezzo uscilla e quindi non abbiamo la possibilità di fare strategie a medio e lungo termine, ma soltanto a breve termine. Per me questo è un grande punto critico. Certo, 40 anni di storia a Stiltek, criticità forse paragonabili a quelle attuali, ne avrete già dovute affrontare. Quali sono state quelle che hanno dato magari maggior impulso anche all'azienda per crescere ed investire? Sì, allora, 40 anni di storia, io sono alla seconda generazione. Le maggiori criticità le abbiamo, reputo, finora superate e io parlo del cambio generazionale. Quando parliamo oggi di cambio generazionale, si fa sempre fatica a capire effettivamente qual è il grado di soddisfazione che il mercato ovviamente è in grado di recepire, perché effettivamente il cambio generazionale, se non è superato così come la Stiltek ha fatto in questi anni, se non è superato in maniera eccellente come reputo lo abbiamo fatto noi, si fa molta fatica. Un minuto di tempo per raccontarci come vi vedete in avanti, su che progetti state lavorando in questo momento, qual è la Stiltek di domani o di dopodomani? Allora, noi al momento stiamo lavorando in partnership con istituzioni, che possono essere università, associazioni, al fine di creare sempre più ricerca e sviluppo sia in nuovi mercati, sia in prodotti, sia in nuovi materiali per la saldatura. Io parlo ovviamente nel mio settore. Oggi parliamo anche di innovazione. Quando parliamo di innovazione significa anche formare le nuove leve a una cultura di impresa diversa rispetto a qualche anno fa. Quindi reputo che oggi l'innovazione è anche formare nuova gente per un percorso futuro migliore. E naturalmente poi per trattenerla anche questa gente, perché molte aziende investono in formazione delle persone che poi magari trovano altre occasioni e se ne vanno. Quindi immaginiamo che la sfida possa essere anche questa. Grazie e complimenti. A voi, grazie a voi.